Nel villaggio dei Puffi ci sono quelli che fanno la loro parte. E poi... Oh, fetta! Ci sono gli altri. Forciuto! Quattro occhi! Tontolone! Oh, questo non è neanche credibile! Seguitemi! Ho la mappa per un villaggio perduto, ma dovremo attraversare la foresta proibita. Wow! Ma la foresta proibita non è insidiosa e piena di pericolosissime sorprese? Azzeccato! Preparatevi a partire. Dobbiamo fermarli prima che scoprano la verità. Farò... E loro faranno... Oh no, gargabella! Tontolone, come stai? Bene, immagino! Mi raccomando, non mangiare tutte le tue provviste! Ho appena mangiato tutte le mie provviste! Credete di conoscere i Puffi? Ho paura che le provviste mi stiano tornando su! Ma non conoscete tutta la storia. Che succede laggiù? È questo il villaggio perduto! Guardate, eccoli! Che cosa vogliono? E se avessero la pelle squamosa! E artigli enormi! Dobbiamo essere preparati a qualunque cosa! Ma che... Mi sta prendendo un panico pazzesco, ragazzi! I Puffi, viaggio nella foresta segreta. Oh! 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 Ma dai, scherzi! Tutto bene! Ehi, scherzi! 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 Grazie a tutti